La normativa che prevedeva gli aumenti per i consiglieri comunali era stata applicata circa otto mesi fa, ma la ragioneria generale ha stabilito successivamente che gli incrementi potevano scattare a partire da febbraio 2024. Per questo motivo gli 80 consiglieri coinvolti dovranno adesso restituire oltre 4.000 euro a testa, gli aumenti dei gettoni di presenza ricevuti regolarmente da settembre 2023 a febbraio di quest'anno. Prima dell'aumento i consiglieri guadagnavano circa 950 euro al mese, da settembre invece gli importi erano saliti a 1.800 euro sulla base di un calcolo che prendeva come riferimento i compensi dei consiglieri comunali con i gettoni per seduta che erano passati da 48 euro e 80 centesimi a 97 euro e 61 centesimi. L'amministrazione comunale, come riporta il giornale di Sicilia, aveva concesso tempo fino a fine luglio nella speranza di un chiarimento normativo da parte della regione che però non è arrivato. Dunque per presidenti, vice presidenti e consiglieri è arrivata la stangata, il recupero delle somme avverrà trattenendo un terzo degli importi mensilmente dovuti.